Ti mancano 2 euro abbondanti. Ti mangiare? Eh, mi rendo conto, ma io non ti posso aiutare, sinceramente. Senta, posso sapere quanto viene tutta? All'incirca 3 euro e 3,50 euro, o meno. Io non trovo tutti i soldi, non è possibile... Quanto c'hai? 1 euro e 40. Facciamo chiedere al titolare, no? Eh, non ci sta nessuno... Eh, mi dispiace, l'opera buona non la posso fare io, non ti posso aiutare io. Ti devo posare tutto, insomma. Eh, o prendi una cosa o lo riponi tutto a posto, eh. Mi mancano i soldi in cassa a fine serata, capito? E' un problema, poi. E c'è ragione, mi dispiace proprio tanto. La nostra macchina, c'è una cosa o la faccia mili. Ho chiesto la cerchina ho un pozzo, eh? sono due euro capito mi dispiace due euro grazie mille grazie mille grazie mille grazie signora 2 euro se ne mancano quasi due euro vedete voi due euro li vede tu grazie non sto andando più l'emocina queste cose qua mi sento tante cose quindi mi deprimo pure un po non vede primi prezzi non vede primi prezzi non vede un ristorante per te vassi